Il bosco è fitto, umido e cupo. Si sento un gufi, civette ed un lupo. Dormono gli alberi sotto la neve che li ricopre con un manto greve. Ci sono larici, pini ed abeti e poi cespugli, mirtilli ed aneti. In mezzo agli altri c'è un piccolo abete che è proprio stanco di freddo e di quiete e che vorrebbe un pochino giocare, però purtroppo non sa come fare. Ma risvegliandosi questa mattina ecco che sente lì sulla collina risa di bimbi e un vociare tra i rami, piccoli passi poi corse e richiami e poi guardando là sotto più in basso riesce a vedere chi fa tanto chiasso. Sono dei bimbi che han tanta allegria e che lui spera non vadano via. Ma cosa sono venuti a cercare? Cosa nel bosco vogliono trovare? Ebbene sì, cercan proprio un abete per far le feste a Natale più liete. Cercano un albero, un po' piccolino, che possa stare vicino al camino, per rendere tutto davvero speciale, se passerà di lì Babbo Natale, per rendere tutto davvero stupendo, se sta Gesù nella culla dormendo. Prendete me, chiama il piccolo abete, e certamente non vi pentirete. Prendete me per favore bambini, vi reggerò mille e mille lumini. L'intera notte starò lì a vegliare e i vostri doni potrete trovare. Dentro ai pacchetti coi lucidi fiocchi ci saranno tanti stupendi balocchi. Ed i bambini cammina, cammina, ecco che arrivano sulla collina. E devono proprio per forza notare quell'alberello che sembra chiamare. Guarda, ti piace, mi sembra il più bello. Certo, hai ragione, prendiamo proprio quello. Scavano intorno per bene i bambini, per non sciupare le radici più fini. Non stringono troppo, mai con le mani, in modo che non si spezzino i rami. E senza fargli nemmeno un po' male, ecco, lo addobban per questo Natale. Ed ora l'alberello è pieno di palle, che sono rosse, dorate, blu e gialle. È ricoperto di luci e ghirlande, e già si sente il più bello e il più grande. E può vederla Befana passare e tanti doni ai bambini portare. Ed anche Babbo Natale e le trenne con il suo sacco ricolmo di strenne. E può vedere il bambino Gesù e gli angioletti che cantano lassù. Ma le vacanze ora sono passate e le giornate di scuola iniziate. Per lui potrebbe essere triste il momento. E invece l'albero è ancora contento. Perché seppur siano finite le feste, senza né lagne e nemmeno proteste, certo nessuno lo vuol buttare via. Anzi, si trova una nuova magia di cui convinte qualunque bambino. Piantare l'albero giù nel giardino. Or tutti quanti sono pronti a scavare. Anche il più piccolo vuole aiutare. Così, anche quando l'inverno è passato, la beta è là, folto e verde nel prato. Sopra i suoi rami ci sono gli uccellini. Intorno giocano allegri i bambini. E il nostro beta, anche in questo momento, ride con loro, è felice e contento. Non dubitando nemmeno un istante, si sente utile, ancora è importante. Grazie a tutti.